Per ciò che ha fatto davanti a Corioli, lo chiameremo con l'applauso e le grida dell'esercito. Caio! Marzio! Coriolano! Il senato, Coriolano, è ben lieto di farti questo. E io gli debbo la mia vita e i miei servizi. Adesso resta soltanto che tu parli al popolo. E allora il nostro partito potrà anche andare a dormire durante il suo potere. I volsci sono in armi. L'Africa non ha un serpente che io abborrisca più della tua fama odiosa. Una volta, le membra dell'uomo, decidendo che il corpo se ne stava ozioso ad aspettare il cibo, decisero di cospirare contro di lui. Ma così facendo, in breve tempo, tutto il corpo cominciò a deperire. E così lo Stato, il popolo e il Senato, come un unico corpo, nella concordia vivono felici, ma nella discordia periscono. Voi conoscete, signori, la ragione per cui mi trovo qui? Sì, signore. Dicci cosa ti ha spinto a farlo. I miei meriti. I tuoi meriti. Sì.